intanto buonasera a tutti e vi ringrazio per la disponibilità anche perché era una conferenza che ne scaletta un po di tempo però tra il campionato l'infrasettimanale e soprattutto un po ultimamente l'extracampionato siamo riusciti oggi a merterla perciò vi ringrazio la disponibilità che è stata subito una cosa all'improvviso vado io direttore ciao francesca vincarci la nazione ti chiedo dopo questo questo bel successo è il caso di frenare l'entusiasmo oppure di cavalcarlo secondo te grazie ma c'è un entusiasmo positivo un entusiasmo negativo certo che l'entusiasmo positivo è l'entusiasmo di crescita l'entusiasmo negativo è quello che pensando che avendo vinto 3-0 colpato sia finita il campionato ma questo penso che non è un problema perché i ragazzi lo sanno bene che il campionato è lungo e difficile però è anche vero che un entusiasmo positivo di crescita di compattezza quando si lavora e si lavora l'entusiasmo è sempre bello farlo perciò c'è l'entusiasmo positivo e bisogna cavalcarlo un entusiasmo che può essere deleterio di una di una vittoria che può far mare questo non ci dobbiamo pensare la classifica non la guardiamo anche perché il campionato è ancora lungo e ci vuole piedi per terra e ogni domenica sarà una battaglia anche perché questo campionato ti sta dimostrando che questo è certo non solo padova e perugia si giocheranno il campionato ci sono otto squadre nel gioco di due punti e tante squadre sono forti che ci ritroveremo fino alla fine a lottare insieme a noi lo faccio solo così poi vi lascio tutto volevo sapere se ti sorprende il cammino del perugia questa ripresa oppure ne eri ne eri convinto anche nei momenti di difficoltà ma sai francesca il campionato appena iniziato io mi sono dirigato scusamente il primo giorno che sono venuto era il senso di appartenenza di una squadra ecco adesso posso dirlo che non parlo di aspetto tecnodattico che c'è un allenatore che sta lavorando bene ma la compattezza che hanno preso i ragazzi vederli felici ma soprattutto aiutarsi uno con l'altro penso che questa deve essere una base non di partenza ma di arrivo perciò siamo su quel lato lì siamo sulla buona strada si stanno sacrificando tutti ma vedo anche chi non gioca che è felice e dà importanza in questo momento più alla squadra che all'aspetto personale il mister penso che abbia sottolineato un aspetto di Dragomi che ti dice tutto che è il pensiero del gruppo perciò io quello che posso dire è che in questo momento non mi interessa la classifica non mi interessa il clamore del perugia primo classifica ma mi interessa la crescita di questo gruppo che senso di appartenenza e soprattutto di che pian piano e va avanti diventa maturo e consapevole delle proprie forze poi c'è un campo ma sicuramente non saremo noi che in questo momento ci esalteremo per questo primato in classifica Buonasera direttore Domenico Cantarini Rete Sole Corriere dell'Umbria Buonasera Chiedo semplicemente se a questo punto cioè se diciamo così a bocce ferme avresti firmato per essere in questa fase di crescita arrivati a inizio novembre o se credi che sono state bruciate le tappe o se magari si poteva anche fare qualcosa di meglio Ma in questo momento se vedi la classifica magari uno dice inconsapevolmente ma se abbiamo in classifica che vuoi? No assolutamente no è un percorso di crescita che stiamo all'inizio siamo contenti tutti di questi risultati ma ripeto non guardo i risultati di crescita in base alla classifica sono contento di certi aspetti altri dobbiamo ancora lavorare tantissimo sotto l'aspetto di crescita tutti quanti io quando parlo di crescita non parlo solamente della squadra chi è vicino alla squadra, chi ha senso e appartenenza per me il Perugia è dal magazziniere a chi fa le pulizie alla squadra l'orgoglio mio è vedere una compattezza che in Pampiano va sempre più crescendo l'entusiasmo va sempre più crescendo però ti ripeto non è mettere la firma e essere prima in classifica il ruolo mio è di stare solo sul pezzo, staremo sul pezzo perché quando parlo io parlo della squadra penso che lo staff tecnico lo sta dimostrando che è il primo a fare il mister ma la crescita deve essere costante e poi se c'è l'entusiasmo di una classifica buona ben venga ma in questo momento è solo crescita mentale, crescita fisica anche perché siamo una squadra che potenzialmente può solo crescere perché in questo momento abbiamo tante partite infrasettimanali e stiamo lavorando al minimo di come può lavorare il mister perciò va bene l'entusiasmo ma sempre sul pezzo sempre con l'entusiasmo giusto e mai con l'esaltazione della classifica Ciao direttore, Antonello Ferroni messaggero Senti, in queste prime dieci giornate siamo agli inizi come hai detto tu valutando l'organico con gli inconvenienti che ovviamente ormai dobbiamo metterli in conto purtroppo con questo coronavirus a livello di organico spesso la squadra è stata ridotta all'osso va detto che pur essendo ridotta all'osso continuano a fornire prestazioni eccezionali come quella di ieri a distanza di tre giorni l'una dall'altra però ecco questo aspetto ti preoccupa in prospettiva parlo proprio a livello numerico o ci sono secondo te le forze per arrivare tranquillamente al mercato di gennaio insomma senza problemi? Ma non mi preoccupa minimamente perché l'hanno dimostrato in campo io sono abbastanza un direttore sportivo che guarda, non guarda il nome ma guarda quello che fanno in campo prima di tutto perciò qui adesso hanno dimostrato che 23 persone, 22 persone, quelle che siamo in lista stanno dimostrando di meritare Perugia non hanno fatto niente, ci avremo un cammino ardo, lungo, lunghissimo, pieno di insidie però penso che a questi ragazzi in questo momento va fatto solo un applauso per il senso di appartenenza e quello che vogliono dimostrare ci stanno riuscendo e penso che sono orgoglioso quello che stanno dimostrando in campo tutti e 22 perciò non mi preoccupa minimamente nel numero sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi con tutte queste difficoltà perché quando capisci le difficoltà e stai dando quello che stai dando significa che hai capito dove stai e che la strada forse è giusta però ripeto, la strada è lunga e siamo solo a 10 partite di campionato e ci saranno tanti momenti delicati, tanti momenti che dovremmo passare Andrea Franceschini, Unvea Radio, buonasera direttore Buonasera Andrea C'è un gruppo di squadre che indubbiamente si giocherà questo campionato un gruppo anche abbastanza folto rispetto a quello degli altri gironi quindi alla fine è diventato un girone di ferro, il girone B per emergere da questo gruppo qual è il margine di miglioramento che deve avere questa squadra su quale aspetto bisogna lavorare rispetto a quello che vediamo oggi grazie In questo momento l'aspetto che è migliorato tantissimo è il senso di capire la categoria perché questa è una squadra completamente diversa dall'inizio c'è avuto tempo, il fattore di crescita, le scorie insomma c'è stato un bel da fare dall'inizio però ecco se il Perugio vuol pensare in grande deve avere questo atteggiamento di capire soprattutto quando c'è da soffrire quando c'è da essere brutti e non belli io penso che questa squadra lo sta dimostrando ecco su questa cosa qui più capiremo questa mentalità e più ci troveremo avvantaggiati rispetto ad altri poi per quanto riguarda il girone ho detto bene Andrea tutti parlano sui giornali favoriti o non favoriti ma in questo momento in campo ho visto squadre forti l'ho visto con i miei occhi e io ti sto parlando delle prime otto insomma che sono aggruppati in due punti, in tre punti però ho visto anche squadre dietro che sono abbastanza attrezzate per dar fastidio insomma perciò sappiamo che il campionato lo abbiamo scoperto per quanto riguarda il resto l'attenzione sarà sempre alta massima e soprattutto come ho ripetuto prima questa squadra ha capito che questa è la Serie C e questa è una cosa importante visto che qualcuno si è diciamo comunque esposto in questo senso per le difficoltà coronavirus emergenze tutto quanto il pensiero il pensiero del direttore Giannitti se è il caso di andare avanti a prescindere ad ogni costo se magari è il momento di fermarsi se è il momento cioè qual è il pensiero insomma guarda ieri dopo ieri sera ho pensato ho pensato perché un po' eravamo tra virgoletti siamo in pieno regime di coronavirus però facciamo i tamponi ma ieri sera quello che ho passato che ha passato la squadra che ha passato anche io ho detto è meglio fermarci perché quando arrivi in una partita che può essere uno scontro di attorpato o qualsiasi partita a due ore prima della partita non sai chi mettere in campo penso che lì va in fumo tutto il loro fatto di una settimana non c'è un allenatore che può programmare io ieri sera ieri sera che ho vissuto il momento tipico del coronavirus quando una squadra viene colpita a 24 ore prima della partita perché poi c'è una squadra che viene colpita a 48 a 3-4 giorni della partita che può programmare ma ieri sera ho pensato che in quel momento non è più calcio ma stai solo in mano a delle situazioni che sono extracalcistiche e ieri sera mi hanno avuto per la prima volta il pensiero anche per me stesso di fermarsi io volevo fare una considerazione sull'attacco anche se chiaro poi le chiacchiere sono tante quello che contano sono i fatti i fatti sono che dopo 10 partite di campionato questa squadra ha 3 attaccanti con 3 gol ciascuno a testa e viene indicato da tutte le parti non da una parte o dall'altra ma da tutte le parti il reparto a livello futuribile da rinforzare è proprio l'attacco che cosa ne pensi? che la difesa è il minore attacco stanno dimostrando che avendo una difesa che non prende golle poi chi segna segna insomma fa differenza poi l'attaccante io non credo all'attaccante dei 20 gol a 17 gol 18 gol c'è l'attaccante decisivo ecco quando l'attaccante è decisivo significa che ce l'ha il momento opportuno che fa col momento opportuno che sa leggere la partita io penso che in questi in questi tre attaccanti sono stati tutti e tre decisivi ma soprattutto stanno capendo quando si ha l'importanza di essere attaccante del Perugia perché non ci non ci mentichiamo che quando metti la maglia del Perugia metti una maglia storica che prima di te sono passati attaccanti forti devi sempre la responsabilità è tanta io penso che questi ragazzi in questo momento stanno dimostrando soprattutto compattezza e proprio la soddisfazione di vedere la gioia di Murano ai godi bianchi in mano penso che per un direttore sportivo come me che mette in prima base di tutto il gruppo la compattezza sia la soddisfazione più grande perciò non credo tanto nell'attaccante bombe come si dice ma nella compattezza di squadra che parte dalla difesa sì vai buonasera direttore l'S Romelli Tef Channel due considerazioni velocissime la prima sul lavoro di Caserta se si aspettava che in così poco tempo insomma togliesse quelle scorie a cui ha fatto riferimento anche poco fa e sul fatto che può essere state quelle cinque scopole prese a Mantua la svolta della stagione del Perugia Io penso che quella sia stata la partita dove c'era una spartiacque o costruivi il futuro del Perugia o in quel momento potevi inafrocare con tutto con tutto con tutto quello che poteva essere perché non è che hai perso una partita normale hai straperso una partita dove dove in quel momento era tutto nero io penso che in quel momento si è deciso di costruire qualcosa di importante soprattutto con le dichiarazioni del direttore Comotto di compattezza di gruppo anche perché per quanto riguardava per quanto riguardava il sottoscritto non era anche se la sconfitta era fatto clamore ma vedevo il lavoro che pian piano veniva fuori non è che un lavoro di allenatore lo vedi su una sconfitta del 5-1 sapevo che prima o poi veniva fuori non abbiamo fatto ancora niente perché bene o male è ancora lungo però quella è stata una sconfitta dove lì abbiamo deciso di costruire il nuovo Perugia fino adesso ti parlo non parlo di risultati non parlo di classifica si vede tutto un altro stile tipo di squadra soprattutto la compattezza i ragazzi sono stati così bravi di mandare giù un'umiliazione del genere e capire che in quel momento la Serie C era tutto altro che magari che avevano un test siamo compattati adesso stanno dando grandi dimostrazioni di unità di compattezza e soprattutto quel senso di appartenenza che io dirò sempre perché io la classifica i risultati non li guarderò fino a maggio Tra le varie conversazioni che ho avuto da ieri sera ad oggi con tifosi addetti al lavoro ce n'è stata una che mi ha colpito ma chiedete a Giannitti se ritiene anche lui che questo Perugia che sta affrontando la Serie C sembra è molto simile al Frosinone che vinse il campionato costruito da Giannitti in Serie C grazie non è che il Frosinone costruito da Giannitti o il Perugia costruito da Giannitti è normale che la Serie C ti richiede certi parametri io sono contento di quello che sta esprimendo la squadra a livello ti ripeto e parlo sempre a livello caratteriale perché però è una squadra che in questo momento abbiamo noi abbiamo un cruccio in testa io insieme ai ragazzi insieme al miste noi lavoreremo con umiltà lavoreremo con tanta abbenegazione e soprattutto sappiamo che dobbiamo conquistare gli applausi di quella tifoseria che in questo momento è scontenta quello che possiamo promettere è che continueremo a fare questo tipo di lavoro con tanta umiltà e con tanta abbenegazione e sapendo della maglia che indossiamo un giorno avremo quegli applausi che i ragazzi si meriteranno e saranno applausi ancora più belli perché sono venuti dopo che hanno scoperto una squadra che è il loro abito la squadra diventa l'abito del tifoso insomma ecco io ho il mio sogno avere una squadra che è il tifoso orgoglioso indipendemente da tutto quello che fa se tra i giocatori di questa prima parte di stagione ce n'è uno ne ha citati alcuni durante questa conferenza ma se ce n'è uno che l'ha stupita in maniera positiva chiaramente in questo inizio di campionato ma questo in questo momento un direttore sportivo potrebbe avere tanti nomi ma io faccio un complimento al settore giovanile del Perugia perché ho scoperto Lunghi che per me è un calciatore che è molto forte e mi ha stupito ecco magari anche detto che il lavoro passato è stato fatto un lavoro importante perché oltre a essere un bravissimo giocatore con grandissima prospettiva è anche un ragazzo umile se faccio i complimenti a Lunghi perché li posso fare perché so che un ragazzo non si monta la testa e soprattutto un ragazzo per bene se i due ragazzi che erano positivi dieci giorni fa se ci sono novità ma aspettiamo aspettiamo il risponso dei tamponi sono in fase in fase di risposta vediamo un attimo ancora non ci sono risposte aspettiamo le decisioni del dottore però insomma siamo ci siamo insomma come tempi dovrebbero essere i tamponi oggi se non sbaglio penso che nei tempi di dieci giorni ci siamo quasi però io è una cosa che non è che so tanto come funziona queste cose qui però penso che ci siamo quasi alla fine di dieci giorni Francesca aspettiamo aspettiamo Grazie a tutti.